E' stata praticamente paralizzata un'intera parte della città, moltissime le forze dell'ordine intervenute, sono quattro le macchine dei carabinieri, tre dei rigidi urbani, un costo sociale altissimo per qualcuno, questa si chiama integrazione. Sono della stampa, no non posso evitare, sto lavorando. Eh ho capito, un tesserino con un sereno, ma se tesserino, si presenti? Certo, molto volentieri. Si toga un attimo la chiamata che sta parlando con un carabiniere in questo momento.